Buongiorno, in questo video vedremo come realizzare un studio del moto rettilinea uniforme utilizzando un software di analisi automatica. Nel particolare non utilizzeremo Tracker, che è un software gratuito, che potete scaricare e installare tranquillamente sul vostro computer. Il materiale che ci serve per questo esperimento è, prima di tutto, un corpo che si muova su una traiettoria rettilinea. Io ho scelto, nello specifico, un trenino, il trenino Thomas. Ci serve un righello e una videocamera. Io ho utilizzato il tablet e chiaramente un software di analisi, Tracker. Qua vedete la vista di apertura, poi vedremo come utilizzarlo nello specifico. Dobbiamo, prima di tutto, allestire la scena con alcune avvertenze. La videocamera deve essere il più possibile parallela al piano del moto. Quindi se decidiamo di riprendere dall'alto, la fotocamera dovrà essere praticamente orizzontale. Potremo anche disporre in un altro modo. Il righello deve essere ben visibile.